Le infiltrazioni non solo nel palazzo comunale ma in altri palazzi importanti della città di Fano presto avranno vita breve perché sono partiti anche qui lavori di non manutenzione straordinaria ma proprio di restauro conservativo. Si tratta di un restauro conservativo la situazione bisogna ammetterlo era abbastanza grave in tutto l'edificio comunale ci sono segni di infiltrazione evidenti anche la gente che viene la sala del concordio l'ufficio del sindaco gli uffici della gente che lavora e la situazione era molto molto grave sia nell'ufficio comunale sia nella sala dei globi che è la sala più importante se volete la biblioteca federiciana. Ma anche nella pinacoteca comunale quindi la corte malatestiana presentava delle situazioni non più sostenibili siamo intervenuti le ditte stanno già lavorando gli interventi sono già iniziati da tempo e si stanno concludendo qui nell'edificio comunale per una prima tranche dell'intervento perché ne seguiranno altre e riusciremo a bonificare tra virgolette quasi tutte le situazioni più gravi andando ad impermeabilizzare i tetti sistemarli e poi come prevede la norma mettere una lifeline cioè un cavo tra virgolette d'acciaio che serve appunto per successive manutenzioni. In questo caso senza dover utilizzare le impalcature gli operai potranno andare a fare manutenzione sui tetti agganciandosi quindi in perfetta sicurezza in queste lifeline che appunto stiamo predisponendo. Quindi sono interventi molto attesi da chi lavora qui ma comunque ridanno vita ridanno valore a un edificio ad esempio quello del comune che sicuramente è di tutto pregio in quanto un ex convento riutilizzato per uffici comunali ma di grosso pregio. Tra l'altro per valorizzare anche questa attività per valorizzare anche il monumento in cui tutti i giorni i dipendenti comunali lavorano abbiamo fatto predisposto con una tecnica innovativa ma non troppo recente un laser scan per ricostruire il 3D tutto il tetto perché dal punto di vista architettonico dal punto di vista storico è un tetto molto importante e in un edificio altrettanto interessante.